Giovanni Giunti, il palleggiatore di una Umbria che oggi ha stentato a trovare i suoi ritmi, la sua fluidità, non riuscivate a passare e tu non sapevi più a chi dare palla perché contro un Piemonte che mora da tutte le parti è più difficile sicuramente. Loro sono parecchio organizzati, noi abbiamo fatto fatica a fare punto, poi abbiamo faticato a ricezione, è diventato tutto più difficile come una squadra che fisicamente ha due o tre giocatori superiori a noi. È un torneo sicuramente che sta volgendo al termine, mancano ancora due ostacoli da superare, bisogna affrontarli con che spirito? Arrabbiati, con la voglia di vincere e col sangue gli occhi. Umbria che potrebbe lottare sicuramente per il nono dodicesimo posto, adesso è sicuramente migliorato rispetto all'anno scorso il ranking, però non ci si accontenta, si va in campo con quale cattiveria? Noi puntiamo a dare il massimo, anzi dobbiamo dare il massimo, noi cerchiamo di arrivare più in alto possibile quel che ci aspetta, poi alla fine il campo vedrà.